Senti Davide, come stai? Tutto bene? Alla grande ragazzi Che periodo stai attraversando? Che sono psichiatralista? Sì, sì C'è un po' di psicologia Coricati Sto attraversando un periodo molto bello, devo dire Volete sapere, da un punto di vista sentimentale Sentimentale Senti neanche sapere l'altra Sentimentale Andiamo sul gossip Sentimentale, magnifico Ho una compagna che spero presto di sposare Ecco, questa è forse la prima notizia che non volevo darvela Taglia dai, semmai questa parte la taglia Ma no, non si taglia niente Io pensavo di essere già sposato No, 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 io sono sposato una volta Con la mia ex moglie E ho fatto una figlia che si chiama Margherita Che il 31 di gennaio compirà 18 anni E quindi Mi segue moltissimo E poi con la mia compagna invece non ci siamo mai sposati Quindi ho tre figli con la mia compagna Natania Che fa la giornalista al Tg1 Ok Però ci siamo mai sposati E c'è un aneddoto a questo proposito Però non so se posso raccontarlo Dai, vai Non puoi lanciare l'amo Guarda come se lo fa strappare No, noi prima del Veramente non l'ho mai raccontato nessuno Perché nessuno me l'ha chiesto Quindi voi mi avete chiesto dal punto di vista sentimentale Quindi ve lo racconto Prima Noi ci saremmo dovuti sposare prima del Covid Ce l'avevamo detto Ci sposiamo C'era una bella cerimonia Mi piacerebbe molto fare di nuovo il matrimonio ebraico Il matrimonio ebraico è un momento strepitoso Io non sono molto religioso Però ci tengo alla tradizione All'identità ebraica Avevamo deciso di farlo Poi scoppia Tant'è che lei mi regala per il mio compleanno Un quadro Un quadro di Emanuele Luzzatti Con sopra scritto il matrimonio Quindi dico Beh È fatto Scoppia il Covid Casino Vaccini Redronni Novax Noi tutti vaccinati in famiglia Questo diciamolo sempre E poi non se ne è più parlato E alla fine abbiamo rinviato E magari prima o poi lo faremo Adesso speriamo di farlo Anche se ormai Voglio dire Stiamo insieme da praticamente 12 anni Abbiamo il più grande Che ne ha Che ne ha 11 Quindi insomma Però Com'è stato il momento della proposta? Cos'hai creato di romantico? Ma in realtà Se ne parlava da tempo Poi è stata lei È stata lei a portare questo quadro Per il mio compleanno Come regalo Ho scritto Il matrimonio Non ti sei inginocchiato Non ti sei inginocchiato Al tramonto No ma che cazzo Avete visto una serie americana Che roba è Non funziona così È una tradizione Si fa così Poi mi inginocchiate Io si lo fa Sì Lui si è inginocchiato Quante volte ti sei inginocchiato? Uno Ah una Perché sei al primo matrimonio Uno lo devo fare Eh Uno ne ha vita Scusa Sei principiante tu Comunque posso dire Ora non voglio cominciare A fare il lecchinaggio Comunque posso dire Animale Da palcoscenico Animale Col microfono Animale Animale La tigre No perché 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 No ma nel corso Nel corso della nostra Esperienza Gurulandesca Sì Abbiamo avuto una marea Di ospiti Però Si nota Già dal limite Che è il peggiore Adesso ve lo chiedo io Che è stato il Allora I peggiori Sono quelli a cui devi Strappare un po' la risposta No mi no mi no mi no mi no La lista Giuseppe Cruciani No Questo Questo non vale Però è buona Questa è buona Brava Bravissima 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 Non si dice chi è il peggior Tu Come no Si dice solo Chi è il peggiori Sei migliore È troppo facile Tu sei il migliore Il numero uno Il peggiore Non sapere proprio chi Lo saprei Tutti bravi Ora ho nominato Cruciani No Quindi entro diretto Che è la mia vera moglie Alla fine Cioè Quella che ancora Non è mia moglie Cioè la mia Adorata Adorata fidanzata Mamma dei miei Splendidi figli Natania Dice che in realtà La vera La vera coppia Siamo io e Cruciani Ma lo dice lei davvero Ma cosa ti ha colpito Di Cruciani Ah pensavo di Natania No no Di Cruciani Della tua vera moglie Di Cruciani Cruciani Ma ha colpito tutto Cioè la sua La sua proprio La sua capacità Di leggere In modo così Basso la realtà Cioè In realtà Altissimo Però ha una capacità Di intuire Adesso dico una cosa seria La capacità Di intuire Proprio i rumori Di intestino Della società Questa capacità Direi quasi Di fare una Colonscopia All'Italia E di entrare Dentro il substrato Della Ma di tirar fuori Il vero Cioè ad esempio La questione Del covid Di vax e no vax Noi Diciamo lui Però Merito tutto suo Anzi il demerito Tutto suo Quello di aver capito Questo filone Che ribolliva Della rabbia Degli italiani Rispetto Rabbia relativa Perché in realtà Poi il 90% Gli italiani Si sono vaccinati Noi dobbiamo ringraziare tutti Dobbiamo salutare le dronni E dire che il 90% Gli italiani Si sono tutti vaccinati Tutti quanti Quattro dosi Vado io così Qua uno Due Tre Quattro Quattro dosi E anche i miei figli Bambini Fatti vaccinati Va bene Anche io Anche voi Tutti Bravi ragazzi Vi saluta il ministero Della salute Quindi lui ha avuto Un'intuizione geniale Quella di capire Che c'era quella cosa E lo ha fatto In altri mila Sul tema dei vegani Sul tema del sesso Ha questa capacità Di anticipare In modo devastante Grandi temi Molto divisivi Ma profondamente Esistenti nella società Questo è il suo Grande Grandissimo talento Secondo me Comunque voi due Diciamo che In un qualche modo Vi compensate Esatto Vi compensate Siamo diventati Molto amici Le squadre Secondo me Quando guardi la zanzara Sei o per cruciani O per parenza Questo ormai è così Quindi c'è il popolino Incolto Appunto Maleodorante Che ovviamente Sostiene il crucianesimo Il vannaccismo E tutta questa corrente C'è il popolo Borghese Come dice Intanto Di classe Scherzo Sì quella Borghesia Illuminata La potremmo chiamare No quella Borghesia Illuminata Che invece Si rispecchia Però ecco Ti sei fatto un po' Incastrare Perché mentre cruciani Non ha nulla da perdere Te esponendoti Così tanto C'è il rischio Di Non so Non essere preso Per qualche lavoro Particolare Questa è una bella domanda Più che altro Sei un po' compromesso Dal punto di vista della serietà Il personaggio Parenzo Con quello che poi è il giornalista Vanno mai in conflitto Guardate Queste cose qui Questa cosa Questo dibattito qui Anche dentro la mia famiglia Anche con mia moglie Continuo a chiamare la mia moglie Con Natania L'ho vissuto moltissimo Cioè nel senso che spesso Entravo in conflitto Anche con me stesso Perché probabilmente Era una fase della vita In cui ancora non avevo ben chiaro Che direzione prendere E' chiaro che però Dentro di me C'è sempre stata una parte Un po' più pop Comica Irriverente E una parte invece Non dico più seriosa Ma più istituzionale Quindi il dramma Negli ultimi 12 anni Ma l'ho risolto Negli ultimi due anni Questa cosa Infatti questi ultimi due anni Di Zanzara Sono stati per me I più divertenti E i migliori In assoluto Perché sono riuscito In qualche modo A tenere insieme L'anima pop E a consolidare L'anima giornalistica Alla sette Portando dentro Alla sette Dentro il mio programma L'area che tira In onda sulla sette Ogni giorno Dalle undici Tredici Perché ridete Ditelo che voi Ma il che tira Scusate Dottor Cairo Io guardo sempre Dottor Cairo Sempre Salutate Dottor Cairo Ciao Cairo Noi ciao Salve Dottor Cairo No Buonasera Buonasera dottore Ti aspetto Gurulandia Eh Pompici Cairo Sai che è il cabace di venire Perché no allora Perché è una persona Che non si sottrae È il cabace di venire Avremo già qualche domanda pronta Avremo già qualche domandina Sì perché voi siete Apparentemente Non pericolosi Cioè voi avete questo Avete due paraculi Bravo Perché siete Non pericolosi Questo sorriso Questi denti Meravigliosi Bianchissimi Sto Rolex Questa eleganza Lui questa magliettina nera Non mi ha fatto lo scanner Tutto così all'esor Ritetti Però a quella domanda Che tu ti senti rilassato E poi pac E dici qualunque cosa Siete dei criminali voi due Siete due criminali Cos'è che mi avevi chiesto Ci ha girato tanto attorno Però non ha risposto alla domanda Esatto E invece la vorrei Non ha risposto Quale è la domanda? Se vanno mai in conflitto C'è stato un momento Che ho detto C'è stata una fase In cui io per tanti anni Mi sentivo Ho minacciato più volte Di abbandonare la zanzara Come forse Giuseppe vi avrà raccontato Ma per fortuna Devo dire Come in tutte le relazioni Come anche nelle coppie Sia artistiche Che della vita C'è sempre qualcuno Che in qualche modo Ti riporta alla realtà E questo qualcuno Paradossalmente è stato Cruciani Che ha sempre Ma oltre a che Credo mi vuole bene Come io gliene voglio davvero E siamo molto molto Amici ormai Siamo proprio legati Ogni tanto ci mandiamo dei messaggi Per farci le battute Sulla cosa Sul tema del giorno Ma è stato lui Alle volte a riportarmi E in qualche modo A dirmi Guarda che secondo me Sbagli Se abbandoni Il nostro prodotto Lui peraltro Vi faccio un'altra confessione È stato davvero molto generoso Perché in realtà La zanzara nasce con Giuseppe Poi c'è un periodo In cui c'è Luca Telese Con lui E a un certo punto C'è un periodo A tre In cui arrivo In cui arrivo anch'io Ma lui Che ha iniziato da solo E che ha costruito Il successo della zanzara Fin dall'inizio Fin dall'inizio La zanzara era un grande caso Editoriale Giornalistico Eccetera Quindi Il successo che poi abbiamo Costruito in questi ultimi anni Parte da Però parte da una cosa Che lui aveva costruito E lui è stato però Molto generoso A condividere questa cosa Io questo lo devo assolutamente Riconoscere Oltre ad aver avuto Un intuito Di trasformare Di anno in anno Il programma Cioè la zanzara di oggi Non è Ma anche Gurulandia di oggi Forse non è La gurulandia Di qualche tempo fa Probabilmente Perché anche voi cambiate Diventate meno buoni Spero Mi auguro Con questo sorrisino Così Dolce Non pericoloso Però sei unico Nel tuo settore In questo Se pensiamo Sai qual è la miglior carattrice Che hai Davide Secondo me È un camaleonte Cioè lui sa Adattarsi A seconda di chi ha di fronte Cavaleonte Non è una roba Per tutti comunque A seconda di chi Però mi piace questa cosa Io Diciamo Dentro ognuno di noi Ci sono diversi registri Io sicuramente Fin dal liceo classico Avevo la voglia Di fare Facevo il teatro classico antico Cioè a me È sempre piaciuto Moltissimo Anche l'aspetto Della pièce teatrale La cosa Come Mi ho sempre Avuto una grande passione Per il giornalismo Ora Riuscire a tenere insieme Le due anime Le due cose È stata Una grande occasione Della vita È stato veramente fortunato Magari sono stato anche bravo Ma devo dire È stato fortunato Perché nel mio percorso Ho incontrato persone Giuseppe Prima ancora nella televisione Quando ho iniziato a Padova Poi Telerombardia Poi la Sette Che hanno avuto fiducia E mi hanno dato la possibilità Di esprimermi E alla fine Per tornare alla domanda Prima che mi avete fatto Cioè come mi sento In questo momento Dico Professionalmente È forse uno dei momenti Più belli Perché sono vicino Ai 49 anni Ho quattro figli Ho una compagna Che ancora non ho sposato Magari sposeremo E sono in una fase professionale In cui mi sento Diciamo Arrivato Non si arriva mai Però sereno Nell'avere in qualche modo Messo insieme Queste due anime E non si arriva mai